Matteo Maria Zuppi. Poche settimane fa ha compiuto 60 anni. Romano de Roma, anche se spesso il suo apostolato lo ha messo a contatto con altre situazioni del mondo. La sua biografia resta tutta dentro la città eterna. Ordinato prete nel 91, è stato vice parroco, poi parroco a Trastevere. Nel 2010 passa alla chiesa dei Santi Simone e Giuda, nella periferia di Torre Angela. Nel 2012 è nominato da Benedetto XVI Vescovo Ausiliare di Roma. Legato alla comunità di Sant'Egidio, nel 1990 ha svolto un'intensa opera di mediazione in Mozambico, flagellato da una lunga guerra civile. Tra poche settimane diventerà il 120esimo Vescovo di Bologna, 112esimo successore di San Petronio. A poche ore dalla pubblicazione della nomina, lo incontriamo nel suo ufficio presso la sede del vicariato di Roma, a Laterano. È una responsabilità così lontana dal mio servizio, da quello che stavo facendo qui al centro di Roma, nella città dove sono nato, dove ho incontrato la comunità di Sant'Egidio, dove poi sono stato barroco, prima al centro poi in periferia. Per cui in realtà c'è una sorpresa interiore, qualcosa che era assolutamente lontano da qualunque aspettativa. E questo da una parte, come ho scritto, lo sento moltissimo, avverto il limite, avverto la debolezza, avverto quanto debbo cambiare, crescere, in conoscenza, in sapienza, ecco. E dall'altra parte ho la serenità di dire non sarò mai solo, c'è una Chiesa così viva con cui cammineremo assieme. E la serenità di che c'è una... se il Papa Francesco ha chiesto a me questo, credo che troveremo il modo per supplire alle inevitabili debolezze, all'inevitabile limite della mia persona. Ha colpito molto il riferimento alla nostra tenerezza, alla nostra pronuncia un po' emiliana. E questa parola, tenerezza, che è una delle parole chiavi del pontificato, sembrerebbe anche del suo ministero. Io me lo auguro. Qualcosa dobbiamo sempre imparare perché in realtà sappiamo anche quanto è facile indurirsi. E non avere tanta tenerezza o tenerezza, non lo so ancora pronunciare, ma lo imparerò. A me è sempre colpito perché quando ho incontrato qualche persona emiliana, c'era questa pronuncia, mi ha sempre colpito, che c'è un che di calore, un che appunto di materno, di sensibile, di rotondità, di... ecco, per questo appunto ho parlato della tenerezza. E poi credo che è l'atteggiamento con cui anche qui Papa Francesco ci invita a guardare l'umanità intorno. Perché se non c'è tenerezza ci si indurisce. Se non c'è tenerezza spesso c'è aggressività, c'è brozezza, c'è un modo duro, aggressivo verso gli altri. Invece credo che tutta la nostra umanità ha bisogno di tanta tenerezza e la Chiesa è una madre che, come ogni madre, ha tanta tenerezza per i suoi figli. Eccellenza, lei ha avuto dei rapporti con Bologna? C'è mai passato? Ha avuto dei contatti o è tutto una scoperta? Direi che è tutto abbastanza una scoperta. Sono stato per celebrare purtroppo un funerale di suocero di uno dei miei fratelli, che è bolognese. Ho avuto dei contatti, ho partecipato a qualche convegno storico, alcuni anni addietro, ma non ho mai avuto dei contatti con Bologna, se non quelli che, noti, insomma, di una Chiesa che ha delle tradizioni così antiche, profonde, spirituali. Ecco, questo senz'altro cercherò di ascoltare tanto e di capire questa Chiesa, del suo carattere, della sua originalità. Era un giorno molto desiderato questo, molto desiderato prima di tutto dal Cardinale Caffarra, che sentiva il peso del suo stato di salute, ci ha anche confidato che aveva chiesto addirittura anticipatamente rispetto al combimento degli anni, invece ha dovuto avere una lunga proroga. Ma c'è attesa anche da parte dei preti e della gente? Sì, penso che l'ho capito anch'io del Cardinale Caffarra, quando ci ho parlato questa mattina mi ha detto, è che mi hanno nominato amministratore, non credo di dirviare nessun segreto, credo che lui non volesse, io invece ho detto che ero molto contento, perché vuol dire che così lui continua in queste settimane a esercitare il suo ruolo così importante e il suo servizio per la Chiesa. Sì, per me è anche un'attesa di, soprattutto direi di ascoltare, il primo atteggiamento è quello dell'ascolto. Quello che ho scritto di Gesù è che il Vangelo di Domenica mi ha molto aiutato, mi ha molto aiutato sia perché la Domenica ci aiuta a tutti, davvero dà il senso, la luce ai giorni della settimana e in questa settimana per me, davvero così particolare, il Vangelo mi ha aiutato a capire quello che bisogna fare, a ricordarmi quello che bisogna fare. Non si rimprovera chi chiede, qualche volta lo faccio e lo facciamo, non si sgrida, quindi appunto dando quasi una colpa a chi chiede, ci si ferma e si ascolta. Quella domanda bellissima di Gesù che vuoi che faccia per te, che vuol dire che cosa c'hai, che cosa ti posso fare. Quindi non è soltanto un analista che si mette, come dire, che osserva freddamente, ma è un ascolto che ha un senso di partecipazione, di comunione, di condivisione. Io spero di poter vivere questa. L'anticipazione che della stampa, da parte della stampa, probabilmente ha un po' banalizzato questo momento, rendendolo poco significativo l'annuncio, eppure questo è un momento spirituale, intenso, perché viviamo anche il mistero della successione apostolica, ci connette a Cristo, ci connette agli apostoli, in questo momento così solenne proprio, cosa si sente di chiedere alla Chiesa bolognese? Dunque di vivere assieme effettivamente questo senso di successione. Molte volte su tante cose ognuno pensa che la vita inizia con lui e finisce con lui, è ovviamente un errore tragico di prospettiva. Siamo tutti figli di una storia, ereditiamo tanto, io personalmente penso che ho ereditato tantissimo, e ho paura che sono un po' come la mia generazione che ha consumato tanto e lascia poco a chi viene dopo. Questo lo sento con veramente un profondo senso di debito. Noi abbiamo ereditato la Chiesa che ha voluto, ha sognato, ha sofferto per il Concilio, pensa a Bologna, la figura del Cardinale Caro, con tutta quella sua passione pastorale, e insomma spesso, non dico per Bologna, lo dico per me chiaramente, l'abbiamo anche sciupato tanta ricchezza. Insomma credo che dobbiamo proprio provare a spendere tutto quello che abbiamo per rendere bella questa Chiesa, questa madre che ha bisogno di tutti quanti noi e che mi sembra che abbia tanto da dare agli uomini della nostra generazione. L'ultima cosa, proprio questo, questo noi che ha detto, perché è quello che colpisce molto del suo messaggio, ha dato l'impressione che non arriva un eroe solitario che deve portare avanti la sua vocazione, e la sua missione, ma ci ha subito tutti intruppati in un grande noi, nel senso che siamo davvero un popolo con le diverse vocazioni, con questa missione di annunciare il Vangelo del Regno alla nostra gente, alla nostra terra. L'eroe solitario sarà per quel che è di pigrizia romana e poi di consapevolezza dei propri limiti, proprio non... ma poi mi sembrerebbe sbagliato spiritualmente e anche umanamente. Credo che uno dei grandi regali del Concilio, esisto, molto sofferto, è stato quello della Chiesa Comunione. Io credo tanto alla comunione, la comunione non soltanto come fine, ma proprio anche come metodo. È soltanto la comunione che può permettere a tutti quanti di valorizzare il proprio ruolo, di capire il proprio ruolo, quello che può servire agli altri e anche che ci impegna a crescere. Per questo penso effettivamente al noi. Non esiste la paternità senza la fraternità. Papa Bergoglio, quando si è affacciato per la prima volta, ha chiesto di pregare per lui, ha chiesto per certi versi che tutta l'Assemblea, la folla, direi piuttosto l'Assemblea, chiedesse a Dio di benedirlo. Voleva dire e stabilire subito quello che nel cosiddetto discorso della Luna, di Giovanni XXIII, era quando Papa Giovanni disse ma io chi sono? Conta nulla. Un fratello che la grazia di Dio è chiamato ad essere padre. Fraternità e paternità. Questo mi sono ricordato appunto pensando oggi, a distanza di più di 50 anni, che soltanto questo dono di comunione, che la Chiesa è questo dono di comunione e questo è anche quello che mi dà serenità, certamente di poter condividere tanto con una Chiesa così tanto ricca, così tanto piena di carismi che saranno per me una forza e che spero di aiutare a mia volta. Grazie.